Prima di iniziare vi devo dare la commuovente notizia che questo video è sponsorizzato da Wondershare una simpatica azienda che già mi ha sponsorizzato in passato e che oggi vuole promuovere il DVD Creator che potete scaricare gratuitamente e poi in caso acquistare sul loro sito link in descrizione utilizzando un facilissimo intuitivo menu e cui creare un DVD sarà piuttosto facile è sufficiente trascinare dentro dei video come l'intro di Sabrina perché no? altrettanti video simpatici sempre da buttarci dentro creare un menu personalizzato come quelli veri di DVD appunto veri il software ha già diverse opzioni di personalizzazione al suo interno e come potete vedere funzionerà alla grande potete provare come funziona con il telecomando e infine masterizzare finalmente il DVD potrebbe essere un ottimo regalo di San Valentino con tutte le clip di te e la tua fidanzata se ce l'hai tu sei fortunato se ce l'hai Wondershare wow ma ciao non ve lo aspettavate eh? allora oggi ho per voi un'altra sorpresa speciale mi è arrivato un altro pacotto col botto e quando arriva un pacotto col botto di solito sono cose inerenti al disegno giusto? perché già è successo ma questo qua in particolare l'ho preso per topi perché volevo che avesse del materiale non super costoso ma ne avesse anche tanto a disposizione di materiale per quando viene qui da papo suo nella sua scrivania si mette lì e disegna le sue cose colore eccetera questi qua sono dei colori che adesso vi faccio vedere allora questi colori si chiamano Touch 5 Twin Marker mai sentiti nominare non li conoscevo sono semplicemente andato su Amazon e ho cercato dei pennarelli, pantoni, doppia punta, qualcosa simile ai Copic Marker per capirci se Frafrog ha fatto un video dei Copic Marker scrausi di Tiger beh questi probabilmente sono ancora più scrausi dello scrauso ma non voglio giudicarli in modo cattivo nel senso che ancora non li abbiamo provati sono molto economici li potete vedere qui su Amazon io li ho trovati semplicemente cercando su YouTube, su Google cose simile ai Copic ma economici e soprattutto un set numeroso, corposo, con tanti colori che appunto Topi potesse avere una vasta scelta a un prezzo modico sì sono sempre 45 euro usciti dalle mie tasche solo tre stelline e mezzo beh adesso però andiamo noi a giudicarlo perché qui con me c'è Topi puff eccolo qui un topolino che come al solito non facciamo vedere il viso e puoi salutare però ciao e quello che faremo adesso sarà disegnare subito insieme a lui no? via, impostazione da disegno da disegno spostiamoci quindi di qua innanzitutto andiamo a vedere questi colori Topi è qua al mio fianco non inquadrato ovviamente apriamo questi colori come puoi vedere anche tu Papo sono tanti sono proprio tanti tanti colori ci sono un sacco di verdi diversi di blu diversi di grigi diversi di rosa diversi di tutto quindi il pacco è sostanzioso adesso andiamo subito a provarlo quindi noi abbiamo qui dei fogli e che cosa faremo? tempo or sono noi portavamo una serie abbiamo fatto soltanto tre video in cui Topi si inventava un suo personaggio e io lo facevo in modo più realistico tra virgolette un po' più fighetto detto tra noi ma non che i suoi disegni non siano già fantastici di suo e quindi anche oggi lui farà il design da zero di un suo personaggio si inventerà qualcosa poi io cercherò di trasformarlo in realtà utilizzando solo ed esclusivamente questi magici colori saranno all'altezza delle nostre aspettative probabilmente no forse proprio per niente ma non facciamoci la testa prima di rompercela giusto? iniziamo a papo qui c'hai i fogli matita gomma e quassù pennarelli per ripassare tratto pensi? ma che sarei pennarelli se tanto coprono anche la matita? come sempre no? tu fai lo schizzo a matita poi lo ripassi col pennarello stile fumetto e cancelli la matita cosa vorresti fare? mi sta avvenendo mente puoi iniziare a pensare è umano? è una creatura? è un animale? umano umano maschio o femmina? maschio bambino o adulto? bambino bambino allora puoi iniziare col disegnare un bambino e da lì vai a aggiungere le cose non lo so se è un astronauta e gli aggiungi il casco e quelle cose lì se è un motociclista lo vesti a motociclista però intanto già sai che parti da un bambino vedete come facciamo character design avanzato col mio figlio quindi vai inizia con il bambino musica bene topi è finito l'inchiostrazione quindi adesso io vi cancello via tutta la matita sotto adesso prima di colorarlo Tobi ci dirà ci anticiperà che cos'è quindi che cos'è? è un ladro che ha rubato 600 euro più una cassaforte e più una collana e gli occhi praticamente sono da banconote perché vuole i soldi perché vuole i soldi quindi un ladro ha rubato una cassaforte 600 euro è precisiamo e una collana e sui occhi c'ha appunto le banconote quindi questa è una maschera e questo è tipo una canottiera o è tipo che cos'è? come è vestito? un'armatura tipo è un'armatura quindi un ladro che è un'armatura quindi non è ambientato nel mondo contemporaneo magari nel passato quando tutti indossano l'armatura o nel futuro quando? non lo sai? ok improvviseremo ma adesso arriviamo al momento quello che ci interessa davvero perché vogliamo vedere come funzionano questi colori e come prima cosa quindi li utilizzerà lui lui prima ancora di me quindi con cosa vuoi iniziare? che colore ti serve? ah forse un grigio per la cassaforte no? se è una cassaforte questo è un bel grigio non proprio scurissimo vediamo com'è ah come vedi? questi hanno due punte ne hanno una di qua che è ciccia per finire prima gli spazi grandi e una che è una punta piccola per andare nei dettagli nelle cosette piccole quindi io ti direi se vuoi visto che la cassaforte è rettangolare puoi far con questa e la tieni piatta così che almeno vum fai su tutto il tratto capito? con precisione vedi come se diluisce sembra? è come liquido hai visto? guardate che precisione che già devo dire dal grigio che indica qua esce fuori un grigio scurissimo rispetto al grigio appunto che indica qua può essere la carta che magari è troppo leggera può essere semplicemente che non lo so uno vuol dire qualcosa di intelligente ma non lo so ma non lo so ma non lo so ma non lo so non lo so ma non il ma non lo so ma non lo so ma non lo so ecco come potete vedere topi ha finito e lui si è espresso mentre colorava grazie a telefono lui si è espresso mentre colorava dicendo mi piacciono questi colori colorano bene c'è sempre da dire che purtroppo a noi comuni mortali ci abituano fin dall'elementare anche dall'asilo a colorare con i pennarelli a spirito presente quella spazzatura letteralmente perché non c'è color peggiore di quello spirito lì c'è una cosa che io eviterei proprio di far comprare i propri figli proprio forever dovrebbero bannarli dalla terra e dal mondo quindi ovvio che topi appena usa dei pennarelli diversi sente un forte cambiamento a lui sono piaciuti molto ma adesso provo anch'io farò lo stesso disegno che ha fatto lui come vedete l'ha colorato che sembra più che un ladro un wrestler che ha rubato cose questo è un 600 euro ricordiamo 600 euro perché colorano tanto sono tanto precisi ti piacciono perché sono precisi colorano tanto va bene ci piace come giudizio adesso provo io cerco anche di non metterci tanto questo è un ladro un bambino però hai detto quindi un ladro bambino quindi iniziamo col disegnare la testa di un bambino questa è una maschera comunque sia ricordiamoci quindi io faccio qui sotto il braccio che in qualche modo tiene una cassaforte poi qui da quest'altra mano terrai 600 euro una mazzetta o tante banconote magari qualche banconote svolazzata via perché sta correndo sta scappando via quindi sono svolazzate via più o meno come possa ci siamo vado subito a inchiostrarlo perché sono estremamente sicuro di me o non è vero in realtà tu mi hai detto che c'è una specie di armatura comunque sia giusto quindi io cerco di interpretarlo anche un po' pizzico a modo mio vedi come ci sono le dita che aggrappano in qualche modo la cassaforte qui e qui sembra il cerchio il catenone è un cerchio la collana è un cerchio lui sta facendo cenno di sì con la testa e mi raccomando io do per scontato che voi vediate anche se voi non vedete niente qui in questa mano c'ha i soldi i soldoni qualcuno è volato via come abbiamo detto è a questa maschera che c'ha una grafica strana perché divisa a metà giusto qui dobbiamo fare il simbolo dei soldi come ha detto topi dei dollari poi ha usato neanche gli euri qui si intravede un pochino un pizzico di sorriso sotto il passamontagna qui facciamo un po' di armatura anche sullo stinco adesso vado a migliorare leggermente il tratto esterno è qualcosa che vada un po' inspessito non so perché io ho messo il tacco questi stivali barra strani mocassini perché quasi tutta quasi tutte le armature hanno i tacchi sì ok adesso anch'io vado a cancellare la mia matita andiamo a testare questi colori come potete vedere passano e trapassano i fogli un sacco quindi se mai li prenderete perché tanto lascio il link in descrizione mi raccomando mettete un cartoncino sotto qualcosa del genere perché come i pantoni o tutti i pennarelli di questo tipo base alcolica trapassano molto il foglio prima di iniziare però io vorrei testare due cosette perché noi non abbiamo a differenza di copico altre marche un pennarello bianco con solo alcol per creare sfumatore per diluire e mescolare i colori che già ho buttato su carta quindi voglio vedere come si mischiano innanzitutto questo dice che grigio c'ha la punta viola quindi vediamo cosa esce è un viola è un lilla praticamente sembrava grigio da fuori ah e qui si chiama blu pallido ok ci sono già dei problemi chissà che non ci sia un blu pallido lì con un altro tappo inizio a pensare quindi voglio provare a mischiare questi colori e questo lo apro completamente sovrapposto c'è una diversità tra i tappi i colori incredibile un pochino si mischiano se vado prima con lo scuro e poi con il chiaro vado a cercare la sfumatura però in un modo un pochino sporco proviamo a me tutti i grigi qua sembrano scurissimi io volevo un grigietto chiaro prima ho trovato un colore che era un grigio freddo sto facendo dei test con un'ombra viola che doveva essere grigio ma ok adesso qual era il colore che ho usato prima non troverò mai più ok ho deciso di creare un'ombra molto più netta ma la verità è che qui non è più un grigio un azzurro violaceo un'armatura strana anche questo lato è la cassaforte dovrei trovare un altro grigio ma che sia grigio e qui non trovo nessun grigio che sia grigio ok passiamo al resto datemi un viola scuro che faccio un'ombra sto utilizzando un altro rosso per sfumare quel viola lì e quindi un pochino me lo sta schiarendo lo sta rendendo un pizzico più interessante ma non troppo non iniziamo a ullare al miracolo ancora è un verde super acceso è come se avessero estrapolato il prato e buttato dosso dei pantaloni signori abbiamo finito allora zoomiamo un po' su questo disastro questo è il ladro di topi e questo è il ladro di peo il papo e secondo me è quasi che meglio quello di topi addirittura vi dico per cosa secondo me servono questi pennarelli mettiamo che io sto facendo uno schizzo sul mio taccuino voglio soltanto mettere una base di colore per capire di che colore è cosa ma a livello tra virgolette di design no? cioè io ho fatto lo schizzo di un personaggio sul taccuino e dico ok faccio anche una bozza di colore per vedere se quell'abbigamento ci sta bene quel tipo di colore ma deve essere piatto cioè è un colore che ti serve a livello indicativo che è anche bello da vedere tutto piatto come quello di topi ma se vai a sfumare tanto e ci provi almeno in realtà secondo me succede un macello non sono riuscito a sfumare quasi niente e appena aggiungevo altri colori poco poco più scuri in realtà l'ombra era nettissima non potevo creare dello shading un po' più sfumato per poi aggiungere un'ombra netta mi seguite? poi non so se sperimentando di più si possono ottenere risultati migliori magari ci provo e vi aggiorno non so se esiste di questa stessa marca Touch 5 come si chiama il pennarello bianco per diluire i colori sinceramente ne dubito ma comunque sia per quello che deve far topi quindi per un bambino che deve semplicemente colorare i suoi disegni anche in modo relativamente veloce perché vai a colorare con lo spirito ci metti una vita e viene uno schifo questo qua mi sembra un ottimo pennarello soltanto per riempire quindi riempimenti basilari magari un livello di ombre per capirci cioè con un unico grigio o leggermente scuro vado a fare le ombre giusto così Papo un ultimo tuo giudizio di questi pennarelli non lo so che mi piacciono così tanto perché non so perché perché sono così belli ma non so perché quindi a lui piacciono non sa il perché però gli piacciono e già ve l'ho spiegato secondo me qual è il perché perché c'è un evidente cambio dai colori a spirito a dei pennarelli un pochino migliori bene questa è la conclusione io lascio il link in descrizione se siete curiosi magari ci sono pacchetti meno grandi di questi se li volete provare magari voi scoprite qualcosa di più di me e poi mi potrete scrivere qui nei commenti guarda che hai sbagliato tutto ci può stare perché io non sono perfetto anzi io sbaglio sempre tutto detto questo vi saluto questo è Electric con Electric che vuol dire topi ciao